La vicenda Brioni entra nel vivo. Dopo l'annuncio con il quale l'azienda ha comunicato 320 prossimi tagli tra le maestranze appenne sede storica del marchio, la notizia era nell'aria già da un po', ieri pomeriggio le sigle sindacali unitamente all'RSU hanno incontrato di nuovo la proprietà presso la sede di Confindustria a Pescara per il primo tavolo di confronto. Filtem, CGL, FMC Cisle e Wiltec Wil hanno espresso il loro pensiero attraverso un comunicato stampa congiunto. È necessario e strategico, dicono, valutare il nuovo piano industriale nella sua complessità, cercando soluzioni alternative all'annunciata riduzione del personale attraverso l'utilizzo di ammortizzatori sociali disponibili, la riqualificazione del personale e utilizzando anche il fondo, nuove competenze e il sostegno delle istituzioni regionali in una logica di condivisione con l'azienda per evitare azioni. Unilaterali da parte di quest'ultima. Ricordiamo che le difficoltà dell'azienda partono già dal 2016 ed il prezzo pagato dai lavoratori finora è stato notevole tra riduzione salariale e licenziamenti. L'appello delle sigle sindacali è un invito a tutti i soggetti presenti al tavolo ministeriale a partecipare fattivamente per cercare una soluzione che impatti il meno possibile sui dipendenti e di conseguenza su tutto il territorio vestino. Sulla vicenda è intervenuta anche la regione Abruzzo tramite l'assessore con delega alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale. La regione è pronta a fare la sua parte nella vertenza Brioni. Ero presente al tavolo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico ed ho potuto verificare dalla viva voce dei vertici la linea che intende adottare il marchio di alta moda sul fronte della produzione. E' ancora presto per fare valutazioni sullo stato della vertenza anche se la nota ufficiale dell'azienda conferma il taglio occupazionale. Metteremo in campo ogni azione necessaria conclude l'assessore e siamo pronti ad attivare iniziative istituzionali che siano in grado di farci capire quali possibilità di negoziazione ci sono con l'azienda.